Allora oggi un nuovo video, un video haul dove ho preso delle cosine da Lidl e altre cosine dai cinesi sabato scorso. E a Lidl praticamente è uscita sempre questa linea qua della CN, ho acquistato questi nuovi smalti e dai cinesi invece due cose, solo due cosine, solo dei trucco. Lo so, io avevo detto che i smalti non li compravo più ma purtroppo è più forte di me, non ce la faccio, è come una droga praticamente. E quindi io non ce la faccio, appena vedo altre cosine nuove di smalti, anche di varie marche, così li devo prendere, quelli che non ho perché è più forte di me, però va bene. Praticamente Lidl era uscito questo scatolone dove c'era praticamente solo tutti i smalti, questi qui che adesso vi faccio vedere, c'erano solo questi, di tipi di smalti. Io ho preso tutte le colorazioni, praticamente sono 9 smalti ovviamente della cassettina, insomma questo scatolone diciamo, ci sta per esempio, non so, ci sta un tipo di rosso, ci sta 20 smalti rossi dello stesso colore, poi 20 smalti sempre lo stesso colore, rosa oppure fucsia, marrone oppure il top coat o beggiolino, sta roba qua. Io praticamente l'ho presi tutti, ho preso tutte le colorazioni che avevano e in tutto mi pare di smalti 15 euro pagato, sì 9 smalti. E niente, quindi ecco così, dopo c'era anche un'altra scatolone dove c'era tipo, erano usciti mascare, rossetti eccetera eccetera, ma c'era anche qualche smaltino e quindi niente, non ho preso niente perché era finito tutto. Io perché era due settimane che non andavo con il mio ragazzo a fare la spesa Lidl, quindi ho perso un po' di cosine, però pazienza, o meno male che ho trovato i smalti. Allora, cominciamo subito. Allora, il primo smalto che vi faccio vedere è questo qui, questo qui ha un color carne tra un nude e un rosato pare anche, è carino, si smaltini perché praticamente c'è scritto anche il nome, questo qui si chiama Nude Symphony, e non so se c'è anche il numero, e qui c'è tutti della Siam praticamente, qua c'è scritto step 1 glossy gel look, cioè dall'effetto gel no, look gel no, e provi a mettere non so gel, sono smalti semplici, normali. E step 1 perché il top coat dice step 2, esatto step 1 perché metti prima questo smalto quino, poi il top coat è loro proprio adatto per loro, lo stesso smalto sopra, che dopo vi faccio vedere, vabbè. Allora, che ho preso anche il top coat praticamente. Allora, vediamo questo com'è. È così, vedete, il pennellino è bello grandino, non è tutto piccolino. Questo, allora vi faccio vedere. Non è bello questo, questo do passate è una bomba. Ve lo coso un pochino meno, vedete meglio il colore. che è trasparentino. Questo c'è un po' più di una passata, quindi penso che lo do passate è a posto. Quindi, questo qui è il primo, ed eccolo qua. Vedete, è abbastanza chiaro. Cioè, io lo vedo più scuro in camera, però lo fa un po' più chiaro. Cioè, è un po' più trasparentino. Però ovviamente questo, penso, lo do passate vada bene, credo. Quindi uno è questo. Poi ho preso, vi faccio vedere queste tre tonalità di rosso che ho preso. Questo qui è molto bello, molto scuro. Pare tipo Bordeaux e penso che ci sarà anche la puntina di marrone. Questo qui si chiama Black Cherry. Questo qui è così. Bellissimo questo. Questo è stupendo proprio. E questo è così. Infatti, è bellissimo. Infatti, somiglia un po' al colore della ciliegia, quelle proprio scure, scure, no? Ed è così. Molto bello anche questo. Poi ho preso quest'altro tipo di rosso, che si chiama Red Explosion, quindi Red Esplosivo. Molto bello, questo è proprio rosso vivo. E così, infatti, il rosso, sì, quelli normali, no? Bello vivo è come rosso. E questo è così. Bello. Bello, bello questo. Eccolo qua. Un bel rosso. Bellissimo. Lady Zitta. Scusate che c'è il cane che sta cercando di bagliare. Poi, l'ultimo tipo di rosso che c'era, che l'ho presi tutti, è questo qui, che è il Mystical Red. Bellissimo anche questo. Questo mi sa che c'è una punta di un rosa, penso. Non lo so. O di marroncino, oppure... Mi pare più su un rosa che c'è ne messo come punta. Vediamo un po'. Sì, infatti, penso che c'è sta un po' di rosa. Un porpora. Tipo da quel rosa lì, insomma. È questo qua. Bello. Poi ho preso tre tonalità di rosa. Ho preso questo qui, che è Fabulous Fucsia. Fucsia Favoloso. Bello questo anche. Non si addice tanto al colore che ho io, perché questo qui è molto più scuro, pare. Questo poi è più acceso, questo con delle unghie. Bellissimo questo anche. Bello. Allora, questo qui è così. Infatti è stupendo. Ce la faccio a chiudere. Eccolo qua. Non so se in telecamera rende tanto, ma telecamera pare un po' più scuro, lo fa tipo marrone. E invece è questo con fucsia, bello tanto. Praticamente è tipo come questo con delle unghie, proprio scuro. Però se vedi che è un bel fucsia, anche la camera fa un po' marroncino, vabbè. Un altro rosa che ho preso è questo qui, che si chiama Brilliant Raspberry Pink. Questo. Eccolo qua. Questo pure è stupendissimo. E praticamente, come vi ripeto, come ho detto prima, l'ho presi tutti. Tutte le tonalità che c'era. C'era solo queste tonalità qua. Bello questo. Questo invece mi sa che c'è una puntata rosso. Mi pare da vedere. Infatti voi lo vedete rosso, ma è questo rosa qui. Comunque penso, fate che c'è una puntata rosso. Molto bello questo pure. Poi l'ultimo smalto di rosa, della tonalità rosa, è questo. Rose Desire. Lo Desire, non so come si pronuncia. Penso Desire. Questo è bello perché, non so se vedete i riflessi qua. Vedete qua, c'è questi riflessi qui. Io da me so corta. Quando l'ho preso non mi era corta per niente. Tutti i riflessi verdi, pare. Verdini. Eccoli, vedete? C'è bellissimo. Penso che avete visto qualcosa. C'ha questi riflessi con la luce, però vedete così. Da qui non si vede niente, però. Vediamo. Ah, bello, sì. Adesso sì, si vedono. Sì, c'è questi riflessi micro brillantini, proprio micro micro verdini. Non so se riuscite a vedere, comunque prima avrò fatto vedere anche la boccetta. Questo. E infine dopo, ovviamente, ho preso il top coat, per il tipo di questi smalti qui. Infatti c'è scritto step 2. A questo senso lo faccio vedere, comunque, ecco. Ho preso il stesso pennellino, così, insomma. E quindi di questa marca qui, cioè marca, insomma, uno di questi smaltini qua che vi ho fatto vedere adesso, hanno presi soltanto... No, è 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con uno, 9, che poi ve lo vi spiego un attimo. Di questi qui, 9, insomma, c'era solo queste tonalità qua, praticamente. C'erano solo queste tonalità qui. E le ho prese tutte. Ovviamente, come vi avevo spiegato prima, per esempio, di questi ce n'era una decina o una ventina, quelli che era, però sempre lo stesso colore. E infine dopo ho preso lì, dov'è che vi dicevo che c'era sul cattolone con i vari trucchi, c'era anche questi smalti qua. Però io ho preso solo questo, che con l'altra maggior parte ce l'avevo, anche se non era della stessa marca, della Siena o altre marche. Però questo qui mi ha tirato, questo bronzo, molto bello. Mi piace tanto, e quindi ho preso anche questo. Il pennello, questo è un po' più piccolo di quell'altri. Bellissimo. Eh sì, è un bronzo dorato, pare buono, non so, non mi so spiegare. No, è un bronzo dorato, scusate, è un bronzo metallizzato. C'è stupendo anche questo. Questi qua sono i colori. E quindi questo qui era il mio piccolo haul, diciamo, che ho fatto alla Lidl. Ho visto che c'era, ecco, questa novità qui di questi smalti, quindi l'ho voluto prendere tutte le tonalità. Adesso vi faccio vedere le due cose, sono solo due, che ho preso dai cinesi. Allora, come prima cosa mi sono ricomprata il correttore, questo qui della Susi, che io mi ci trovo veramente bene. Perché io ne avevo comprato un altro, ma non così, dell'astra mi pare, che era un po' più grande. Soltanto mi si è squaiato tutto, con tutto il caldo che ha fatto quest'estate, anche se ancora comunque a me funziona, quindi lo do però ancora. Ho preso questo, che è sempre quello chiaro, perché io per quanto ho la pelle tanto chiara, se io mi vado a mettere un correttore in fondotinta, tanto scuro, comunque si vede tanto lo stacco, il distacco, insomma, tra la pelle mia, il colore del fondotinta, del correttore, quello che sia, e quindi non mi piace. E quindi ho preso questo qui, faccio lo swatch, che è chiarissimo, vedete, non so se vedete, eccolo qua. È chiaro proprio. E questo mi sono trovato sempre bene, quindi l'ho ricomprato, perché io l'ho finito, e questo qui della Susi. Infine, l'ultima cosa che ho preso dai cinesi, questa palettina qua, come sapete ormai sono andata in fissa con le palettine, della Waini Ombre e Pau Pierre, non so come se le pronuncia, questo l'ho pagato 2,90 euro. Questo non mi ricordo, un euro qualcosa, un euro qualcosa, però adesso è preciso, non mi ricordo. Questo invece no, 2,90 euro. Adesso ve svocio qualche colore. Adesso sto andando su più colori scuri, non so perché, ma io ho preso questa palettina perché ho notato questo colore qui, questo rosso bordeaux pare, mi piaceva tanto, ovviamente qui va bene, da nel solito pennellino, insomma. E, cioè, no, è bellissimo, mi piace tanto, cioè è bianco. Oddio, questo è un bronzo, sì, questo pare tipo color champagne, oro, un rosa, un rosa più scuro, questo qui non mi, questo colore che vi dico che mi piace sarà tipo un rosa scurissimo, non lo so. Questo marroncino, questi due tipo grigio, un altro marroncino e nero. Adesso ve li svocio, lo faccio col pennello così non mi sporchi i dili. E cacchio, scriventi. Questo è il bianco. E' belli come colori, mi piacciono. Bello questo, guardate. Questo qua sarebbe champagne, cioè scrivono abbastanza bene. Questo. Bello anche questo. Adesso ve li svocio tutti perché stupendi. Poi questo rosino. Bello. Poi quest'altro che... Bello anche questo violetto. Pare, ecco, non tanto rosa, un violetto che l'ho smaciullato già. Vabbè. Io sono casincio, fa caso. Questo qui che è stupendo. Questo è bellissimo. Eh, lo sapevo. Infatti è bello tanto. E poi quest'altro colore. Bello. Si assomiglia a questo? No, vabbè, a questo qua assomiglia. Bello. Poi. Questo pure bellissimo. Questi riflessi qua. Questo marroncino. E tutti i shimmer, comunque penso, metallizzati. Una robetta cosci, insomma. Vediamo questo. E li sto sbocciando tutti. Comunque, cacchio, sono belli scriventi, eh. Anche quelli più chiari. E poi, vabbè, il nero. Il nero. Il nero è... È matt. Cioè, comunque sono bellissimi, guardate. Belli tanto. E anche molto scriventi. Mi piacciono veramente tanto. Ok. Ci fate caso con lo smacciolato tutto. E niente, questa qui è l'altra palettina che ho preso. Mi piace veramente tanto. Adesso appena riuscirò, cercherò di comprare altre palettine su Buy. Eh no, su Buy, su Wish. Anche se ti arriva dopo un mesetto, più o meno così. E dopo ve le farò vedere, quando le acquisterò, che mi arriveranno. Ve le farò vedere che c'è tanta roba bella. Comunque, sono contenta perché, cioè, scriventi tanto. Non so se in videocamera rende macqua. Rende tantissimo. Molto brillanti come colori. A parte il nero, che è un po' matte. E anche questo marroncino qua, mi pare, più o meno. Non è proprio shimmer. Pare più metallizzati che shimmer. Però, vabbè, comunque sono stupendissimi. Verrà sicuramente un bel trucco. E infatti, apro una piccola parentesi, che adesso non vedo l'ora. Perché io tutta se state, ragazze, non mi sono mai truccata, mai. Perché io vi ripeto, c'ho il fatto che sudo tantissimo in viso. Quindi sì, io me trucco, me ho collato giù tutto e divento un mostro. Già su un mostro di mio. E in più, ci metto pure col trucco a farmi diventare un mostro, che mi si scioglie tutto, non mi pare il caso. E non vedo l'ora, che adesso, pan a mano, comunque, si sente adesso che non è tutto tanto caldo come prima. Cioè, è caldo perché ti muovi tutto. Appena rinfrescherà un altro po', comunque ricomincerò con i Get Ready With Me. Dove mi truccherò insieme a voi e non vedo proprio l'ora. Non vedo proprio l'ora di cominciarmi a truccare. Perché io mi sto guardando le palette e tutto. Dico, oddio, voglio truccarmi, voglio truccarmi. Ma purtroppo non ce la faccio perché ancora non è tutto sto caldo e mi si squaierebbe ancora tutto in viso. Non è che sudo tanto adesso in viso, però, perché comunque adesso si sta benino. Però voglio aspettare proprio che... Che insomma, viene un po' più defresco. Almeno posso cominciare a fare anche i video di Get Ready With Me. Posso cominciare a truccare durante il giorno, eccetera, eccetera. Quindi non vedo proprio l'ora. Io niente, io spero che questo haul da lì, del cinese, vi sia piaciuto. Casomai sotto i commenti mi potete dire qual è stato il vostro smalto preferito, la vostra colorazione che vi è piaciuta di più, se vi piace la palette, insomma, se così in qua. Io spero che il video vi piaccia. Mettete un pollice in su. Sotto il video, se volete, come ripeto, commentatemi. E noi niente, ci vediamo presto a prossimo video. Un bacio e alla prossima. Ciao!